Questa sera parliamo assieme a tutti voi di ex capitani, con un organo guatto, un capitano svizio e creiamo il quattro di punto a trovare la storia, a scrivere le pagine importantissime dei 70 anni di storia dell'Oribe a Brugano. Peppi Koho, grande capitano degli anni 50 dell'Oribe a Brugano. Facciamo un pulsante di un decennio e passiamo a Giorgio Guglietti. Un altro decennio è il Giorgio Guglietti. Grazie, grazie, sempre a te. Simano Guglietti. Grazie. Giorgio Guglietti. Il presidente della promozione del 1982, Fabio Guglietti. Daniele Xudici. Il numero 2, Aneldo Ponza. Grazie. 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 Alfonso. Alfonso. Alla lotta i non serve un'anni! Grazie. Garaccia. L'ultimo capitano del nobile cronologico a cui la maglia è stata ritirata il 44 è il numero 1 per eccellenza Alfio Modina L'ultimo capitano del nobile cronologico a cui la maglia è stata ritirata il fuoco Grazie. 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 Sottenitori, volontari, collaboratori, sponsor, dirigenti, allenatori, giocatori, giovani nella stazione giovanile, negli stili e soprattutto forze degli sinistrati. Grazie. Grazie speciali. Sicuro che interpretare i vostri sentimenti lo voglio dedicare a colui che dalla fine degli anni 70 ha dato la scorsa. Gelo Pantecazza. Grazie. E' una serata di festa, non per dimenticare il presente, ma per incontrare che sotto la nostra famiglia c'è sempre un cuore che parte e anche il nostro motto è che viene per rimanere, non tornare mai. Grazie per la vostra fideltà e soprattutto forza al mondo! Grazie per la visione!